Bellissimo entrare in un mondo completamente naturale, in una scelta stilistica eccezionale che è quella fatta da Alter Ego Italy, un brand con un posizionamento nuovissimo. Cosmoprof di quest'anno è l'occasione ideale per presentare l'immagine di Alter Ego Italy con un posizionamento completamente nuovo, esclusivamente per il salone. Quindi anche l'identificazione del suo logo del pay off Salon Exclusive per noi è molto molto importante perché va a dare fidelizzazione al salone, dare l'importante che il nostro prodotto si trova solo all'interno dei saloni professionali. Quindi anche con una rete vendita esclusiva, con concessionari esclusivi di zona. Un prodotto che però diventa anche internazionale perché apre una sede anche negli Stati Uniti. Esatto, siamo molto orgogliosi con l'apertura della nostra nuova sede, quindi una head office anche nello stato del Kansas con un nostro magazzino, una logistica, una vendita diretta e anche una vendita con dei distributori nei vari Stati americani. Il Made in Italy continua a essere predominante in tutte quelle che sono le scelte aziendali e le scelte del marchio. Il Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo per la qualità, per l'eleganza, la raffinatezza, la scelta esclusiva di principi attivi e di prodotti. E noi vogliamo portare avanti con il marchio Alter Ego Italy, appunto la filosofia di un marchio tutto italiano con produzione di colori, della white line, tutto prodotto presso le nostre sedi. In questa edizione di Cosmoprof abbiamo presentato proprio le nostre linee nuove, le linee di trattamenti, un approccio naturale, perché comunque questo è un filone che si sta portando avanti, adesso è sempre più importante, il filone della naturalezza. Abbiamo presentato Organic Care, una nostra nuova linea di trattamenti per capelli maturi, tutta la linea Botanic Care invece, una linea di trattamenti curativi, senza tralasciare quello che è il core business anche dell'azienda, che sono appunto le colorazioni, quindi i colori con ammoniaca, senza ammoniaca e i prodotti anche molto molto innovativi che abbiamo inserito. Ricerca e sviluppo, una connotazione essenziale per il successo di Alter Ego Italy. Siamo sempre alla ricerca di formulazioni innovativi, con principi attivi nuovi, collaboriamo con molte multinazionali, internazionali, proprio per trovare principi attivi che vadano a rafforzare quella che è l'efficacia del prodotto. Quindi un laboratorio di ricerca e sviluppo, un team tecnico di esperti che lavorano assieme a noi dal marketing per poi presentare prodotti di altissima qualità. Un occhio sempre attento a quelle che sono le tendenze alla moda. Moda è importantissima, non solo per avere delle immagini bellissime che appunto ci circondano, ma anche proprio perché possono offrire al parrucchiere strumenti di fidelizzazione, strumenti anche di formazione che sono molto importanti per anche alzare ed elevare quello che è il livello professionale del salone. Abbiamo sviluppato anche un programma, un approccio marketing personalizzato per il salone che si chiama appunto Salon Expansion, dove tutti gli strumenti, moda, prodotti possono essere poi personalizzati per rispondere alle varie esigenze all'interno del salone. Il futuro 2007-2018 di portare avanti un progetto molto ambizioso dedicato alla formazione. Per noi la formazione al salone, ai professionisti dell'air dressing è molto importante ed è il cuore per la crescita dell'azienda. Il futuro di Alter Ego Italy è nella formazione? Per quanto riguarda la parte formativa, education, già negli ultimi anni Alter Ego Italy aveva strutturato all'interno di sé un team preposto a questo che è il team Accademia. Ora vediamo anche la nuova apertura di una nuova Accademia, New Salon Academy dove ospiteremo non solo i corsi formativi legati e tenuti dai nostri componenti del team ma anche corsi di formazione con il coinvolgimento di profili esterni, di consulenti esterni. Abbiamo un coinvolgimento del professionista tramite quelli che sono i percorsi formativi legati all'area tecnica per cui quello che è anche il cuore dell'azienda, per cui tutto ciò che è il mondo colore che è appunto tenuto da noi diretti dell'azienda, dai componenti del team. Abbiamo la parte formativa legata alla parte stilistica, per cui tutto ciò che è il mondo del taglio e alla parte dell'asciugatura. Inoltre crediamo che il salone oggi abbia bisogno non solo di una preparazione tecnica stilistica ma anche di una preparazione che va un po' al di là per dare alla propria cliente una consulenza sempre più specifica e approfondita. Il mondo colombia, qual'è la tua scelta per la beauty? Io sempre chiedo Alte Ego Italia per la mia hair perché mi hydrata la mia hair, lo rende perfetto, lo rende brillante e lo rende perfetto per una beauty queen. Grazie a tutti!